Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti o bentornati su questo canale, il canale che parla soprattutto di musica, di musica metal in special modo, ma che parla anche di fumetti. Allora, oggi sono qui per parlarvi dell'ultimo numero di Zagor serie regolare, intitolato I due sfidanti. Siamo di fronte al numero 758 e questa qua è la quinta parte di una saga, come tanti sapranno questa saga è dedicata al ritorno di un personaggio celebre delle pagine di Zagor, dedicata al ritorno di Super Mike, come infatti era annunciato nel primo albo di questo ritorno, intitolato Super Mike con questa splendida copertina del sempre eccellente Alessandro Piccinelli. E ora siamo al quinto albo e quindi sostanzialmente, per fare un breve risulto, c'è questo spirito giallo, ovvero Super Mike, che è un antagonista di Zagor e in passato i due si erano scontrati soprattutto, diciamo, svolgendo delle prove di coraggio, delle prove di forza, erano per la precisione sette prove, che decretavano Zagor come vincitore. Adesso Super Mike è tornato più agguerrito di prima per dar filo da torcere a Zagor e anche a dei suoi amici, infatti vedremo che ha, diciamo, preso in ostaggio il suo, Fido compare Cico, come anche alcuni ufficiali dell'esercito, tipo Faulkner, ma anche altri personaggi che gravitano tutti attorno alle amicizie di Zagor e vuole che queste sette prove siano ripetute perché quell'esito, secondo lui, era stato falsato. Praticamente lui ritiene che non è il vero sconfitto e che quindi abbia assolutamente bisogno di una seconda chance. Facciamo la premessa che questo Super Mike appare come, magari per chi non lo conoscesse o per chi si approcciasse per le prime volte su Zagor, questo Super Mike vediamo anche dal look, a parte l'essere biondo e a parte il carattere diametralmente opposto a Zagor, Zagor devoto da sempre verso i più deboli, verso la giustizia, mentre l'altro un personaggio molto losco, molto discutibile e molto ambiguo. A parte appunto l'essere molto distanti come carattere, Super Mike fa di tutto per, diciamo, a livello di look, di forza e via dicendo, per assomigliare a Zagor, forse perché non riesce ad accettare il fatto che esista un personaggio così forte, così coraggioso come Zagor. Quindi lui praticamente si mette un po' come le, non come le, non voglio dire le donne in senso dispregiativo che si mettono in competizione, ma come alcune di esse fanno quando si tratta di bellezza o qualcosa del genere o di rubare magari il fidanzato di turno. Questo non lo fanno solo le donne, lo fanno anche gli uomini, però era per rendere l'idea. Ecco, il carattere di Super Mike, da quello che viene fuori, ripeto, per chi non lo avesse letto prima, diciamo, nelle saghe precedenti, viene fuori un personaggio, secondo me, da quello che ho potuto così ricavarne io, è un personaggio molto complessato che vive molto nell'ombra di Zagor, cercando di emularlo e, se possibile, di superarlo, perché lui è super, non a caso si chiama Super Mike, e non accetta che qualcuno sia meglio di lui, men che meno Zagor. E in più, con queste sette prove, verrà decretato il vincitore e il vincitore potrà tranquillamente rimanere anche dalle parti di Darkwood e chi perderà sarà definitivamente allontanato da Darkwood. Quindi, quale occasione più speciale di questa per vedere, magari, Zagor soccombere attraverso queste nuove sette prove e vederlo allontanato da quella che è, sostanzialmente, la sua terra, il suo territorio, il territorio che lo venera e lo rispetta. È poco, diciamo, Zagor ad Darkwood è un vero e proprio faro che illumina questa zona, questa terra. E quindi, sostanzialmente, la posta in gioco è tanta. Prima di tutto, far valere queste ipotetiche abilità di forza, di tenacia e di coraggio e quindi superare Zagor in questo che è ritenuto praticamente imbattibile e poi di vederlo allontanato da Darkwood, ovvero la terra che lo venera di più. Quindi distruggere in tutto e per tutto Zagor. Per parlare di questi due sfidanti bisogna dire che, finalmente, dopo un po' di, diciamo, tira e molla, dopo un po' di flashback, secondo me, anche un pochino ridondanti e un pochino forzati, inseriti a forza, perché anche in questo editoriale Moreno Burattini cita questa saga Zagoriana che era stata inaugurata da Gallieno Ferri e Tiziano Sclavi e che appunto riguardava proprio Super Mike molti anni fa come la saga più lunga mai vista sulle pagine di Zagor. Lui, a ogni editoriale, non perde occasione per ricordarci che vedremo se riusciremo a battere questa perlomeno in termini di lunghezza, di longevità della saga, questo record finora detenuto da questi due grandi artisti di cui uno non c'è più tra noi e invece Sclavi ancora c'è, ma questo è un altro discorso, diciamo. Ecco, in questo, se posso permettermi, senza dare giudizio sull'uomo perché io non lo conosco, questo continuo ripetere negli editoriali di voler superare questa saga Zagoriana così lunga mi porta a pensare che forse il carattere di alcuni autori, soprattutto di un autore, non è così diverso dal carattere che viene dipinto di Super Mike, perché voler superare in termini di lunghezza un record di pagine è un po' superare un record del Kaiser, diciamo così. Non sono questi, secondo me, i presupposti per costruire una buona storia. Poi, se uno riesce a fare una saga lunga, la riesce a fare più lunga di chi è venuto prima e che nomi avevano fatto questo e riesce anche a fare meglio, beh, tanto di cappello, però tutto questo mi riporta proprio alle caratteristiche di Super Mike che vengono descritte durante questa saga. Un personaggio che quasi voglia a tutti i costi sembrare più bravo degli altri, quando magari non ne ha le qualità. Però questo lo vedremo alla fine perché c'è ancora almeno un albo, questo qua intitolato Verdetto Finale, che non so se in questo o ci sarà ancora un altro albo, vedremo finalmente chi vincerà queste sette prove. Però, ecco ragazzi, questo è quello che volevo dire. Io ho massimo rispetto per gli autori, però porsi un obiettivo in termini solo di superare un record di pagine e veramente, secondo me, una cosa infantile, vogliamo dire così, una cosa come quando avevi 13 anni che, non lo so, facevi a gara a chi andava più veloce in bicicletta o a chi sparava più lontano con la fionda. Sono quelle cose che veramente mi viene in mente di dire che, fortunatamente, non conosco tante persone di 30, 40, 50, 60 anni che mirano a fare queste cose, però spero che sia una mia sensazione che si voglia superare, diciamo, un record di lunghezza di pagine perché, secondo me, il dovere di un autore, il dovere di un autore che vuole differenziarsi dalla massa è innanzitutto offrire storie di qualità. Il fumetto, se non è una cosa di qualità, te ne accorgi. Fortunatamente, questo a scanso di qualcuno che stia pensando che io stia solo facendo delle critiche al team di Zagor e in particolare a chi ha partorito questa storia, fortunatamente da questo albo si intravede qualcosa di concreto e, se noi prendiamo come parametri che un fumetto deve intrattenere, deve divertire e deve non stancare, devo dire che in questo caso Moreno Burattini, perché poi è lui soggetto alla sceneggiatura, ha fatto un buon lavoro. Però il problema, e poi vediamo che appunto lui soggetto alla sceneggiatura, i disegni come dall'inizio di questa saga sono di Marco Verni. Non ho niente da dire su entrambi, perlomeno parlando di questo albo qui. Finalmente vediamo i due sfidanti, come proprio ci dice il titolo, che si apprestano, seppure anche qui, ragazzi, arriviamo a pagina 60 per vedere la prima delle sette prove e sinceramente arrivare alla prima delle sette prove dopo 500 pagine, come ho già detto io, è una tattica sicuramente commerciale per vendere più albi, sicuramente fosse stata una saga di tre albi secca con un albo iniziale dove magari si faceva qualche flashback, un secondo albo dove si entrava nel vivo delle prove, un terzo albo dove finivano le prove e veniva emesso il verdetto, tre albi secchi così sarebbero stati probabilmente, se scritti bene, un capolavoro, o comunque molto molto più godibili che diluiti in questa maniera. Però qui arriviamo finalmente alle prove, se ne tengono tre di sette, la quarta inizia, è una prova molto interessante, la quarta, che vede i due immergersi nelle acque per una prova molto pericolosa, e quindi l'albo intrattiene, questo albo, perlomeno questo albo, il quinto di questa saga, intrattiene e lo fa bene. Ho speso belle parole per... quindi da un punto di vista della scrittura, seppur la trovi leggermente banalotta, non ho nulla da dire, perché scorre bene e non annoia, e questo per me è un grande pregio per un albo. Dal punto di vista grafico, beh, quello che dovevo dire su Verni l'ho già detto, secondo me è un ottimo disegnatore, ma queste espressioni sono veramente, diciamo, lo zagor che io leggevo alla fine degli anni Ottanta, o chi prima di me, chi è più vecchio di me, leggeva negli anni Settanta. Quindi, anche in questo caso, diciamo che un certo ammodernamento grafico avrebbe reso sicuramente questa, che è una griglia assolutamente classica, lo vediamo anche nelle scene di azione, che proprio per rispettare questa griglia così classica, così schematica, si perde un pochino. Non so se l'ho portato qui, però lo cito, lo speciale che c'è ora, il creatore di mostri, che ho portato in recensione, vi consiglio di andare a recuperare proprio la recensione, purtroppo non l'ho portato, l'avevo preso e non l'ho portato, scusate. Ecco, proprio in quell'albo lì, il creatore di mostri, vediamo come, cambiando ogni tanto gli autori e cambiando un pochino la griglia, anche delle storie che magari non sono dei capolavori assoluti, però sicuramente il creatore di mostri è una bellissima storia e vi consiglio di recuperarlo, anche perché se non sbaglio o è un semestrale o un annuale, quindi non è una grossa spesa. Quello è veramente uno Zagor che mi è piaciuto, anche perché ha elementi horror, ma proprio voi vedete nelle illustrazioni che c'è un altro tipo di dinamicità e anche la narrazione, pur nella sua linearità, offre appunto questi spunti fantasy, questi spunti horror, un ritmo molto molto serrato che qui non c'è. Quindi, ragazzi, albo per me questo qui di Zagor da sei e mezzo, che segue più o meno gli altri. Gli altri stavano tutti tra il cinque e mezzo, il sei, sei e mezzo, quindi la media finora per questa saga, per quanto mi riguarda, è un sei. Perlomeno in questo cominciamo a vedere le prove. Però mi chiedo che senso ha, se questa è una saga incentrata su nuove sette prove, fare cinque albi praticamente senza prove o metterle proprio alla fine del quinto e poi far finire il tutto al sesto o al settimo albo. Se il focus sono queste nuove sette prove, gli avrei dedicato uno o due albi a introduzioni varie e avrei dedicato almeno, visto che lo dobbiamo far durare sei o sette albi, chi l'ha detto non lo so, ma visto che l'hanno strutturato così, avrei particolareggiato queste prove, rese veramente avventurose, con tavole magari un pochino diverse, e gli avrei dedicato tipo su sei albi totali, quattro albi solo alle prove e poi al finale. Questo è non il contrario, perché qui è il contrario, hai dedicato due albi alle prove e al finale e tutto il resto ha dei flashback e ha delle lungaggini totalmente inutili. Però, per quanto riguarda questo albo, per me è da sei e mezzo. Fatemi sapere nei commenti e al prossimo video mettete like se vi è piaciuto, commentate, solite cose che vi dicono tutti gli youtuber e che io me ne dimentico quasi sempre. Ciao e alla prossima ragazzi, ciao!